buon pomeriggio buon pomeriggio amici e amiche del canale dal vostro nick juve un grande abbraccio che dire ovviamente aspettiamo la puntata di stasera la puntata di ieri l'abbiamo vista tutti ormai le chiacchiere stanno a zero continuano a scrivere sotto i post miei di uno juventino stai rosicando stai rosicando no state continuando semplicemente a rubare a falsare il campionato ieri come dissi nel video hanno mandato doveri e in effetti ha fatto il suo egregio dovere spinta di bisec golla da annullare ma invece tranquillamente alla fine della fiera napoli juventus ieri a genova dovevate uscire con un punto in tre partite e siete usciti con sette punti in tre partite nulla da eccepire al contrario giustamente i grandi emeriti intelligentoni de no artri gravina company eccetera giustamente visto e considerato che devono aiutare zang aiutati e coadiuvati da gravina aiutati e coadiuvati da ceferin da infantino che fa anche il video commemorativo e soprattutto fa il video con le felicitazioni per l'inter che va a fare il mondiale per club giustamente dall'altra parte bologna verona genoa alla juventus mancano sei punti facciamo il viceversa la juventus sarebbe stato in testa al campionato e l'inter sarebbe stato dietro di quattro punti questo è quello che stanno facendo in maniera indisturbata in maniera tranquilla e serena e gli interisti anzi gli sfinteristi prescritti cartonati sono contenti così però vanno a dire agli altri che gli altri sono quelli che rubano porca miseria meno male che sono gli altri a rubare mentre voi altri siete sempre i soliti immacolati e verginelli che però la cosa più interessante è che se non vi aiutano in maniera sfacciata e palese voi non vincete un cazzo cioè mentre noi comunque avevamo degli squadroni e vi prendevamo a schiaffi 3 a 2 a san siro cioè da 2 a 1 a 3 a 2 ribaltoni con giocatori con le contropalle higuain manzuvi cd bala da glascosta eccetera buffon eccetera 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 voi al solito riuscite a vincere semplicemente se lettera a fanno qualche inchiesta da qualche parte per fare delle penalizzazioni vedi farsopoli 2006 lettera b fanno come l'anno scorso danno meno 15 e automaticamente scavalcate gli altri in classifica e il vostro sistema il vostro modus operandi se non venite aiutati voi non valete un cazzo e vi torno a ripetere a tanti interisti che ancora avanzano quel tripete di cartone perché il tripete si fa con le coppe europee non si fa con la coppa italia ma essendo dementi questo non gli entra nel cervello vi ricordo che la squadra che aveva la juventus prima di farsopoli buffon cannavaro duram zambrotta camolanesi ned viera emerson del piero treseghe ibraimovic voi con quella squadretta di pagliacci che avevate e quel pagliaccio di morigno in panchina sicuro sicuro altro che il gesto delle manette ve ne andavate a casa per pazzi e disperati ma anche lì hanno dovuto spostare noi perché voi se no altrimenti non aveste vinto un cazzo è la vostra storia che è questa la storia di una di un club che vince qualcosa solo ed esclusivamente quando vanno a essere penalizzati gli altri altrimenti non è cazzo vostro siete una società di pagliacci ma non lo dico io lo dice quello che realmente vedono tutti solo che stavolta giustamente siccome il napoli ha vinto lo scudetto il milano ha vinto lo scudetto i napoletani milanisti non vedono queste cose qui gli sta bene non vederle gli sta bene tacere perché sono stati accontentati a suo tempo questa è la differenza e tutti gli altri grandi giornalisti che prima andavano a strombazzare a dire puttanate dalla bocca i vari aurie malvino eccetera 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 i vari biasin da parte dell'inter non hanno commenti al riguardo dicono ma vabbè ma alla fine sì però li cazzate se non vi aiutano non vincete un cazzo detto questo mi raccomando iscrizione al canale like me ne mancano pochissimi ormai per arrivare a 2000 ma soprattutto ci tenevo a fare questo video per fare un grandissimo augurio a tutti voi a tutte le vostre splendide famiglie a tutti voi che mi seguite da tantissime parti d'europa e del mondo veramente sono quasi commosso ma realmente a livello di cuore di stato d'animo per quello che vedo perché in tantissimi da cuba da mosca c'è è bellissimo tutto questo io come potete notare rispondo a tutti auguro a tanti di voi juventini e non perché in questo momento storico non possiamo che essere comunque l'augurio da fare a tutti quanti auguro a tutti un buon anno che sia un anno migliore per tutti quanti per tutto il mondo soprattutto per chi ne ha bisogno per chi è in difficoltà vi mando un grandissimo abbraccio e al prossimo video ciao dal vostro un grande abbraccio